Un altro evento importante di promozione turistica e di promozione della nostra gastronomia, a parte questo Expo Pizza, sono dieci giorni di iniziative e c'è una idea bellissima che è stata proposta dagli organizzatori, che è quella di valorizzare le pizze regionali, per questo è un Expo, cioè oltre la pizza nostra tradizionale ci sarà una valorizzazione, una proposta di tante forme di pizza, abbiamo ascoltato la pizza siciliana che ci verrà proposta con dei grani particolari, veramente sarà un momento molto interessante. Ovviamente abbiamo centinaia di persone già nella nostra città, avremo un movimento economico di grandissimo interesse, avremo una serie di iniziative spettacolari che richiameranno migliaia di persone a nostra città, mi pare che sia un altro degli eventi che sottolineano il carattere di viva città e di, come dire, ormai decollo turistico straordinario della nostra città. E per questi giovani è una grande scommessa. Devo rendere omaggio a questi ragazzi perché hanno avuto coraggio e hanno avuto un'idea. Ecco, questo è un simbolo dell'Italia che combatte, bisogna inventarsi le cose. Inventarsi, credere negli eventi, investire anche, rischiare anche, ma quando c'è un'idea interessante, come nel loro caso, poi, come si è visto, hanno raccolto consenso. Almeno noi abbiamo condiviso pienamente questa idea che ci è sembrata straordinariamente bella e interessante. Avremo delegazioni a tutte le regioni. Questo significa non solo poter scoprire anche altre forme di pizza, ma significa portare qui altre delegazioni di altre parti d'Italia che scopriranno magari la nostra città. Vedete che è tutto un movimento che spinge verso un decollo turistico della nostra città. Dunque, a Salerno, un altro grande evento con Pizza Expo. Ma diciamo che tutti questi eventi aiutano alla fine il turismo e il commercio. Abbiamo un interesse forte a concentrare eventi in questa città da parte di organizzatori di diversa natura, associazioni di categorie, perché c'è un'attrattività di questa città ormai di tipo turistico e di tipo anche diverso da parte dei cittadini stessi o di cittadini dell'Interland, ma anche di gente che viene da fuori e che scorre i calendari delle attività di Salerno per venire a trascorrere delle giornate. Per noi è un'occasione di mostrare la nostra città ai turisti, ma anche un modo per lanciare il commercio ed è anche un'occasione, perché si realizzi un evento, da una bellissima idea degli organizzatori, per proporre un confronto tra le eccellenze e i modi diversi di fare pizza delle varie regioni. È una bella kermesse di dieci giorni, dove ci saranno artisti di rilievo che potranno aglietare le serate, quindi conviene secondo me andare a visitare questo villaggio, assaggiare le pizza e soprattutto vivere queste giornate che ci auguriamo siano di bel tempo a sostegno degli sforzi degli organizzatori.